Rispondere alla violenza contro le donne con la formazione e l'accoglienza. E' stato questo il focus su cui si è basato il progetto Soccorso Rosa, presentato ieri presso il Centro Pastorale di Locri dalla Confederazione Esarco in collaborazione con Efei e CM. Il progetto rientra nel piano finanziato dalla Regione Calabria per la formazione di operatori esperti nell'accoglienza di vittime di violenza e prevede quattro corsi di 50 ore ciascuno validi per 50 crediti e CM rivolti a infermieri, ostetriche, medici, assistenti sociali, psicologi, operatori, sociosanitari, volontari, pronto soccorso e personale 118. Un lavoro a più mani frutto della collaborazione di associazioni, esperti, ospedale e università che hanno lavorato in sinergia per offrire una risposta concreta e su più fronti alle donne vittime di violenza e così accanto al Presidente Nazionale del Consorzio Internazionale Unimorfe, la dottoressa Maria Saveria Modaffari, è intervenuta anche Lisa Carai, Presidente Nazionale CNE, il Direttore Sanitario del Presidio Ospedale di Locri, il Dottor Domenico Fortunio, il Direttore Sanitario dell'Asp di Reggio Calabria, il Dottor Pasquale Mesiti. Un'attività di grande impegno e prestigio sociale che nasce dall'esperienza sul campo e che mira a formare operatori esperti nell'accoglienza delle vittime che sappiano riconoscere la violenza applicando gli appositi protocolli assistenziali di soccorsa e cura sanitaria e orientando le donne verso strutture idonee che possano aiutarle a superare questa condizione.